Ivano Bonoldi dell'Ona Onlus accusa il quieto vivere di Cremona con l'amianto dopo aver ricevuto 10 segnalazioni solo in questa settimana da dipendenti di aziende del capoluogo e del territorio. Si tratta di ditte con verosimile presenza di amianto e che hanno iniziato l'attività almeno dagli anni 70 quando l'utilizzo della fibra cancerogena era diffuso e consentito. La legge 257 del 92 però obbliga le aziende a rivolgersi all'autorità sanitaria, all'ATS Valpadana tenuta a verificare che la presenza della pericolosa sostanza non sia eccessiva e che non si trovi in stato di deterioramento ma la sensibilità da parte delle imprese private, delle istituzioni e degli organi di controllo non appare elevata. Bonoldi quindi critica la freddezza dei sindacati e resta stupito del fatto che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non riconoscano l'impianto che IMSS, ARPA e INAIL non intervengano neppure in quei casi in cui la bonifica è iniziata ma non è mai stata completata e alle preoccupazioni dei dipendenti non seguono verifiche e chiarimenti. La malattia professionale è riconosciuta grazie alle iniziative dello stesso osservatorio nazionale a Mianto non solo a chi ha subito danni ma anche a chi ha lavorato in presenza della fibra killer, impiegati compresi. Eppure Cremona non dà risposte dopo le segnalazioni, emblematica la vicenda della segnalazione dell'edificio accanto all'ingresso della sede della direzione generale dell'ATS in via San Sebastiano a lato di una chiesa. Non ci sono risposte nemmeno dopo l'accesso agli atti. Nel mondo, secondo i dati più recenti dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, ci sono 125 milioni di persone esposte all'amianto sul posto di lavoro e nel 2004 il cancro polmonare, il mesotelioma e l'aspestosi provocati da esposizioni professionali hanno causato 107 mila morti e un milione 523 mila anni di vita con disabilità. La provincia di Cremona, con i suoi oltre 6 mila siti censiti dall'ATS, non fa alcuna eccezione. Nelle aziende agricole la presenza di Eternit è segnalata ma le bonifiche hanno tempi lunghi. L'Ona di Cremona quindi torna sul sentiero di guerra e prepara nuovi esposti.